Buongiorno Quiriti, oggi è martedì. Ci siamo. La sconfitta di Teotoburgo verrà vendicata dal generale germanico. Colleghiamoci al video precedente. Roma subisce una sconfitta che ricorderà negli anni. Augusto è letteralmente scioccato dalla sconfitta e addirittura Roma interromperà le sue invasioni nell'Europa centrale. Vi ricordate, no? Arminio, comandante dei Cherushi, sconfigge e tradisce Varo, l'impero romano sconfitto. C'è proprio una strage di Romani. Verranno tutti uccisi, Varo si suicida. Ma Roma, logicamente, questa cosa doveva vendicarla. Come poteva l'impero romano far passare così questa storia? Tant'è che dopo un po' di anni, il generale germanico, nipote di Augusto, ricordatevi, nipote di Augusto. Augusto impone a Tiberio, l'imperatore di Tiberio, a sua volta di adottarlo, vendicherà Roma. Con la battaglia di I di Staviso. Cosa succede? Succede che Tiberio, durante il suo impero, va in Germania. Ma ci furono tante battaglie, ma di mantenimento. Non conquisterà nessun territorio e quindi saranno battaglie, per modo di dire, solo per mantenimento. Per mantenere i confini e la pace, tra virgolette, con l'impero germanico. Non fu proprio una vera invasione. Quindi, diciamo che Tiberio fa una politica diversa. Lui vuole testare, vuole conoscere ancora il territorio della Germania. Ma non fa dei veri affondi. Invece, germanico, che voleva vendicare a tutti i costi Teutoburgo, farà, diciamo, una vera battaglia dove tutti i germani moriranno. Roma verrà vendicata con la battaglia di Staviso. E germanico prenderà sempre più importanza. È importante questa cosa, perché germanico non viene visto bene da Tiberio. Tiberio, come suo erede, voleva portare al trono il figlio Druso. Mentre, come vi ho detto prima, Augusto farà adottare, obbligherà Tiberio ad adottare Germanico. Quindi Germanico ormai era diventato una persona importante. Il suo esercito lo amava. Roma lo amava. Aveva vendicato Teutoburgo. Tant'è che Tiberio lo chiamerà a Roma, ma Germanico vuole continuare, vuole finire la sua invasione in Germania. Ecco, cari Quiriti, quindi sono tutte cose collegate. Abbiamo Arminio che tradisce Varro, tradisce Roma, vincono i Cherusci e le altre tribù germaniche, vincono Roma con la battaglia di Teutoburgo. Passano degli anni. Tiberio fa delle battaglie, ma non fa delle vere invasioni in Germania. Le farà e vendicherà soprattutto Germanico, vendicherà la sconfitta di Teutoburgo con la battaglia di Idistaviso. Germanico, dopo vedremo che morirà, si sospetta, i sospetti sono fondati, che Tiberio fa avvelenare Germanico. Questa è un'altra storia, cari Quiriti. Però ricordatevi che tutti si collegano. Un imperatore si collega all'altro, un generale si collega all'altro generale. Ecco, cari Quiriti, io vi saluto. Vi ricordo che siete il centro del mondo, siete il centro di Roma. Iscrivetevi al mio canale YouTube SiriusBlack70. Ho contattato Germanico, andrò anch'io a vendicare Roma, la sconfitta di Teutoburgo. Quindi noi ci vedremo martedì per un altro bellissimo video e ricordatevi che Germanico è stato un grandissimo generale. Ciao Quiriti, a martedì prossimo. Grazie a tutti. Grazie.